forse della prossima domanda velotto che sono secondi anni giovani il resto sono 6-7 anni di permanenza se poi hanno fatto poche partite perché evidentemente quelli che c'erano prima erano molto più bravi non davano spazio se tu fai parte di questa associazione per 6 anni e hai fatto 37 partite tu fai la divisione e vuol dire che hai fatto 5 partite all'anno 5 partite all'anno può essere un numero sufficiente per confermarti in Serie A io credo proprio di no per chiudere ti faccio questa domanda noi a Soccer Time siamo diventati famosi anche per una rubrica importante che si chiama il saliscendi tutte le settimane mettiamo un po' il borsino di personaggi intorno a gossip situazioni in rialzo e in ribasso non ti chiedo di dirmi il miglior arbitro della Serie A o il meno peggior arbitro della Serie A di questa stagione ti dico di questa stagione chi mi mette in rialzo e chi mi mette in ribasso beh facciamone 3 almeno 3 bravi 3 si facciamo il podio te li passo allora il numero 1 sicuramente è orsato di schio orsato ecco perché me l'hai fatto segnare ti pare a te e non è mio amico e non ci sono vincoli di parentela molto bene ci lo appuntiamo eh amici di Soccer Time va bene tanto poi lo vedrai penso che domenica lo vedrai domani 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 pomeriggio assolutamente quindi medaglia d'argento medaglia d'argento ti posso dire con tanta morgante ok che ha saputo coniugare il verbo di non essere diventato internazionale con questa capacità di essersi espressi a grandissimi livelli bronzo e legno? il bronzo il bronzo lo do a Sacani perché anche lui dall'abito timido che era io lo conoscevo questo ingegnere mantovano che diventava rosso adesso invece si è fatto veramente grande il legno? il legno assolutamente il legno ah no diciamo il peggiore il legno se no rappresentiamo il quarto classificato si può fare un ex un ex un ex sì un ex sì vai vai posso? tanto ci sanno in pochissimi quindi allora Dondarini tre poloni segnateli eh segnateli e ti dico tre internazionali questa cosa è una cosa pesante ti dico tre internazionali perché voglio giudicare internazionali perché non mi permetto di giudicare chi ti potrei dire e sarebbe un successo Bergonzi dopo quello che è successo a Napoli ma no ma lui è un abito giovane allora io ti dico questi tre internazionali alle attenuanti mi hai tirato fuori tre internazionali va bene chiudiamo col tormentone che tanto ormai ne parliamo con Biscardi tutte le settimane allora Moviola in campo pallone intelligente doppi arbitri tripli arbitri assistenti in campo fuori dal campo quale scenario si vede Graziano Cesari nel calcio nel settore arbitrale fra un 5 o un 7 anni non lo so perché io ho cominciato col fischietto poi è arrivato la fascia con la vibrazione e il segnale acustico quindi tremava tutto il balce suonava tutto dopodiché è arrivato il microfono in Brasile c'è già la bomboletta quindi mi aspetto un abito spaziale però ti devo dire la sincera verità io credo che gli indicatori sulla porta sulla linea di porta per vedere se la palla è in o out sarebbe una grandissima cosa anche se è una rilevanza statistica di poca rilevanza però è un fatto che colpisce molto l'opinione pubblica dopodiché ti dico Moviola la vorrei ma penso che la vorrebbero tutti i diabiti del mondo non per nulla oggi Pierluigi Colina c'è spesso in tal senso guardiamola usiamola poi trarremo le conclusioni contraddicendo il presidente certo perché la Moviola va codificata va magari lo strumento va utilizzato come? facciamo un esempio allora la codifichiamo dove? in situazioni non dinamiche ok in situazioni non dinamiche in calci piazzati ok però la codifichiamo sul giocatore che scorre direttamente colpisce un suo avversario e continua a partecipare alla gara perché l'arbitro è l'unico che non sa che ha fatto quella cosa lì la codifichiamo dicendo allora tu caro mio allenatore allora ci sono spalletti e degli orsi e io faccio l'arbitro in mezzo allora una volta la cerco io una volta la cerco degli orsi e una volta la cerco spalletti perché non si può fare? tu dici tipo jolly? tipo jolly cioè una carta da giocare nei 90 minuti io non sono convinto di questa situazione vado a vedere la moviola non perderemo tanto tempo sì in quel caso sì e poi se saremmo tutti più contenti e si eliminebbe qualche frizione che esiste tra tutti gli antagonisti della partita gli arbitri stranieri invece? contrario? favorevole? se sono arbitri di grande livello sicuramente sì perché servono alla crescita vedere qualche d'uno che è molto bravo e dove ti puoi paragonare puoi cercare di arrivare come lui credo che sì assolutamente sì e ti faccio grandi nomi non certamente quelle ok ok si dice ciofeche ciofeche chiaro ma ciofeche ci sta va bene Graziano sei stato gentilissimo noi ti aspettiamo per le prossime puntate ogni tanto vienici a trovare vi ringrazio siete stati voi molto gentili grazie dell'ospitalità grazie del tempo che mi avete dedicato grazie a te assolutamente va bene allora insieme a Graziano Cesare adesso ve la fai vedere a Gussoni assolutamente te la porto in ufficio lunedì vai tranquillo vai tranquillo andiamo in pubblicità poi cominciamo ad aprire subito sulla 34esima giornata di campionato pubblicità